Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi celebriamo la ventisesima domenica del tempo ordinario, l'anno liturgico. Ci meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 16, versetti 19 a 31. In quel tempo Gesù disse ai farisei, c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porfora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoroso di sfamarsi di quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a legare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffo terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose, figlio ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di cui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò, allora padre ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose, hanno Mosè e i profetti, ascoltino loro. E lui replicò, no padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profetti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore Ecco, carissimi, conosciamo questa parabola dell'uomo ricco e di Lazzaro il povero. Il ricco quando è morto è stato sepolto, dice Luca, invece il povero va in paradiso. Il ricco va nell'inferno non perché è ricco, assolutamente no, perché Dio non è mai contro la ricchezza, ma la gestione della ricchezza, il problema risiede a quello livello. Perché se Dio ci ha dato è per condividere con chi veramente sta nel bisogno. Ecco quello, perché tanti di noi sono ricchi materialmente, spiritualmente, intellettualmente, hanno delle cose, però non sono in grado di aiutare chi sta accanto. Non sono in grado di aiutare colui che sta veramente nel bisogno. Ecco quello che Dio dice. Ecco, chi si comporta così farà la brutta fine di questo uomo ricco. che significa andare nell'inferno. L'inferno non soltanto quando moriremo, ma soprattutto l'infelicità su questa terra. Perché se tu non condividi, come tu pensi godere la gioia? Se tu non aiuti gli altri, come tu pensi godere quello che Dio ci ha dato? Dio ci ha dato per condividere. E quello che condanna, diciamo, la prima lettera condanna il comportamento di questo uomo ricco che non pensava a Lazzaro. Ecco la colpa sua. Mangiava, faceva festa, ma il povero Lazzaro che stava lì non riceveva niente da parte sua. E perciò, nella prima lettura, il profeta Amos condanna questo tipo di comportamento. E il povero Lazzaro va in paradiso non perché è povero, ma perché sarà aperto al Signore tutta la sua vita nelle mani del Signore. Ecco, carissimi, il ricco materialmente, quando si apre al Signore, cioè pensa agli altri, condivide con gli altri, diventa povero spiritualmente. Allora le porte del paradiso saranno aperte. Tanti di noi sono ricchi, ma non vogliono condividere con le persone, vogliono solo ricevere, 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 ma dare è un problema per loro. Faranno la brutta fine, l'infelicità, perché tutto ciò che hanno, tutto ciò che accumulano, quando finirà, diventeranno infelici. Ma invece Dio ti vuole proprio nella gioia e nella vita. E perciò, carissimi, San Paolo ci consiglia, dicendoci, tu uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, all'amitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Ecco, quello che ci consiglia San Paolo. Non ti comportiamo come quell'uomo ricco, no. Ma comportiamoci come uno che si apre al Signore come il povero, perché tutta la sua vita nelle mani del Signore. È lì che potremo arricchirci, carissimi. È lì che troveremo la felicità. Lo diciamo spesso, no? C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Giustamente, per non ripetermi, Dio ci ha dato per dare, per condividere. Allora, vediamo intorno a noi. Ci sono delle persone che sono nel bisogno. Non aspettiamo che qualcun altro venga ad aiutare. Siamo noi, in primis, ad aiutare queste persone. Non ci chiudiamo noi stessi. Non diciamo sempre che non abbiamo niente. Non avremo mai niente. Ma quello poco che abbiamo, proviamo di condividere con gli altri. È lì che noi troveremo la vera felicità. Perché oggi non sappiamo domani chi ti darà un bicchiere d'acqua. Vi auguro una buona e santa domenica. E Dio vi benedica sempre.